Dario Quesada, oggi la Progest vede finalmente il coronamento di un sogno e di un progetto atteso da tutto il territorio? Per noi questa è una grande soddisfazione perché non ci sarà solamente un progetto di gestione di una struttura per persone con disabilità, di un servizio e anche di un co-housing, ma anche quello di restituzione di un bene confiscato alla cittadinanza. Infatti il nostro progetto vuole diventare una risorsa per il territorio, tant'è che abbiamo anche progettato un'area, uno spazio esterno dove poter, speriamo poi uscendo fuori dalla pandemia, poter far arrivare le persone e far partecipare attivamente la gente del luogo. Rossella Ganga, Progest, gestirà questa casa con un'animazione importante dal punto di vista sociale e morale? Sì, questo è il nostro obiettivo principale, il bene verrà restituito alla collettività in un progetto di integrazione con le persone disabili, il co-housing partirà il prima possibile affinché la casa venga abitata immediatamente, la comunità disabili aspettiamo le ultime procedure autorizzative e poi siamo pronti.